Ciao. Bentornato al programma tv di oggi con notizie come. Questa notte al GF sembra essere scoppiato il finimondo. Nessun giorno è tranquillo nella casa più spiata d'Italia. Tantomeno in questo periodo natalizio. Ancora una volta, protagonista del caos è Giuseppe Garibaldi. Che a quanto pare vuole abbandonare il reality show di Alfonso Signorini. Ma passiamo subito a vedere cosa ha combinato stanotte. Giuseppe Garibaldi in crisi. Vuole abbandonare il grande fratello? Da un po' di tempo Giuseppe sembra dare i primi segni di cedimento all'interno della casa. Questa settimana ha anche dato un pugno al muro e si è spaccato la mano dopo una diatriba nella quale è stata protagonista anche Beatrice Luzzi. Insomma. Tra frasi e comportamenti discutibili. Il GF non sta crollando lentamente nel loft di Cinecittà. Ma non è finita qui. Molto gravi sono state anche le sue accuse contro gli omosessuali. Il ragazzo avrebbe infatti detto una frase infelice che conteneva le parole. Accettare i gay. Grande fratello. Giuseppe lascerà la casa? Ultime notizie. Sembra che proprio stanotte. Dopo i numerosi scivoloni e le critiche. Giuseppe Garibaldi abbia raggiunto il confessionale. Dichiarando di voler lasciare la casa. Secondo alcuni si tratterebbe solo di paura della diretta di domani. Nella quale dovrà affrontare tutto quello che è successo negli ultimi giorni. Effettivamente. Alfonso Signorini potrebbe dargli qualche provvedimento. Che sia un modo per mettere le mani davanti? Lo scopriremo tra poche ore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.